Avere una sorella disabile me lo sono chiesta tante volte, ho riguardato tante volte la mia vita indietro. Io ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Barbara e ci siamo sempre volute tanto bene, abbiamo sempre giocato assieme, però dall'altra parte c'era anche un paese che ti guardava, perché noi abitavamo in un paese e ti faceva sempre sentire un po' diverso.